ANSA, Roma, 21-8, risultati della 10a giornata di serie B dopo gli incontri del 10 barra auturno. Bari Cittadella 4 febbraio, ieri, Cesena Foggia 3 marzo, punto e virgola Cremonese Brescia 2, ieri, Palermo Novara 02, Parma Entella 3, Pescara Avellino 2, Provercelli Carpi 00, Salernitana Frosinone il primo, Spezia Perugia 4 febbraio, punto e virgola Ternana Ascoli il primo, Venezia Empoli il primo.